Buongiorno, mi chiamo Francesco Ciconte e nel programma di laurea in mediazione linguistica insegno due corsi, lingua italiana e sociolinguistica dell'italiano contemporaneo. Nel primo corso, lingua italiana, studieremo che cos'è un testo, sia esso scritto o parlato. Individueremo quindi i meccanismi e le strategie necessari alla costruzione di un testo. L'efficacia comunicativa di un testo è determinata da due principi. Da un lato la coerenza, che pertiene al senso e cioè alla dimensione logico-semantica di ciò che vogliamo dire o scrivere. E dall'altro lato la coesione, che pertiene alla struttura morfosintattica, cioè alla grammatica dei nostri enunciati. Vedremo inoltre come è distribuita l'informazione in un testo, cioè come collochiamo gli elementi informativi in base al loro valore di dato, o presupposto, e nuovo. Studieremo infine la tipologia di testi, a partire da come si scrive un curriculum, questione non così scontata, a testi più elaborati, tecnici e professionali. Nel secondo corso, sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, studieremo la relazione tra il linguaggio e la società, ovvero il rapporto tra la lingua italiana come sistema sovrastante e le diverse culture delle comunità di parlanti che caratterizzano il nostro paese. A tutti noi sarà capitato di riconoscere accenti e pronunce dell'italiano diverse da quelli del nostro luogo di origine, ma anche parole o espressioni lessicali insolite, che rispecchiano tratti regionali e dialettali, e anche comportamenti sociali. Ebbene, questa variazione dall'italiano cosiddetto standard dipende da molti fattori. Ovviamente alla provenienza, ma anche il livello di istruzione, l'età, il gruppo sociale di appartenenza, o anche la distinzione di genere. E ci chiederemo infatti se si debba dire la sindaca, l'avvocata, e che cosa significhi farlo, o non farlo. Arrivederci e vi aspetto. Grazie.